In questa puntata farò un tutorial e una recensione completa di YouOdler. YouOdler è una piattaforma cripto che permette di comprare, scambiare, vendere criptovalute, di mettere a rendita le proprie criptovalute e di richiedere anche presiti cripto. Ragazzi, in questa puntata vi andrò a spiegare nel dettaglio come funziona questa piattaforma, quali sono i suoi pro e i suoi contro e vi dirò infine anche io cosa ne penso. Come al solito prima di iniziare con la puntata vi ricordo che questi non sono consigli finanziari, io non sono un consulente finanziario per cui fai sempre le tue ricerche prima di mettere a rischio il tuo capitale all'interno dei mercati finanziari. Innanzitutto per utilizzare YouOdler devi andarti a creare un account su YouOdler, quindi iniziamo andando a vedere come si fa a creare un account su YouOdler. Qui sotto nel link in descrizione e nel link commento pinnato troverai un link che ti rimanderà direttamente a questa pagina di YouOdler. Qui puoi andarti a registrare e andarti a creare un account su YouOdler. Qui innanzitutto vai a cliccare inizia ora o qui in alto a destra registrati e qui successivamente dovrai andare a inserire qual è il tuo paese di residenza, la tua mail e scegliere una password a piacere. Successivamente basterà andare a fare la verifica dell'identità e si potrà iniziare ad utilizzare YouOdler. Una volta creato un account su YouOdler bisogna andare a depositare i propri fondi sul proprio account se si vuole iniziare ad utilizzare la piattaforma. Quindi come si fa a depositare fondi su YouOdler? Innanzitutto YouOdler permette sia il deposito di valuta fiat e sia il deposito di criptovalute. Tra l'altro poi si può ovviamente andare anche a prelevare valuta fiat. Quindi in questo caso come può interessare praticamente alla maggior parte di chi sta guardando questo video, gli euro. Ora partiamo dal deposito e prelievo di valuta fiat. Si può depositare euro, dollari ma anche franco svizzero e anche sterlina. Per quanto riguarda l'euro il deposito avviene o attraverso carta bancaria con una commissione dell'1% oppure attraverso bonifico bancario che di solito avviene entro 24 ore ed è gratuito. Per quanto riguarda il prelievo c'è il prelievo con bonifico bancario che ha una commissione di 5 euro per quanto riguarda i conti SEPA. Quindi se sei in Italia e hai un conto italiano hai una commissione di 5 euro con un minimo di 30 euro per andare a effettuare il prelievo. Al momento il prelievo con carta non è disponibile ma ragazzi direi che comunque io lo sapete. Per quanto riguarda depositi e prelievi con carta a meno che non siano urgentissimi tenderei a evitarli. Perché ora sia su Yoder ma sia su tutte le piattaforme le commissioni per quanto riguarda le carte sono molto alte. Quindi preferite i bonifici bancari se possibili perché a meno non partite già con un 1% in meno di quello che volete andare a depositare. Per quanto riguarda il deposito e prelievo di criptovalute è molto semplice avete una vasta scelta di criptovalute e praticamente classico. Quindi vi verrà fornito un indirizzo su quale voi potete andare a depositare le criptovalute ovviamente occhio alla rete. E poi potete andare a prelevare semplicemente andando a inserire ovviamente l'indirizzo di destinazione e anche la rete. Si può poi successivamente andare a convertire direttamente qua le proprie criptovalute o le proprie valute fiat in criptovalute o viceversa. E qui vedete che se io praticamente ho 1000 euro sul mio account e voglio andare a convertirli in bitcoin. Vedete che io avrò praticamente 1000 euro commissioni di 0 euro in porto da convertire 1000 euro con questo tasso. Ovviamente attenzione qui la commissione vi dice che è 0 euro ma in realtà la commissione è praticamente messa qua nel tasso quindi c'è uno spread una differenza qui nel tasso di cambio. Quindi ovviamente attenzione a questo la commissione in realtà non è vero ma c'è una commissione. Ricordatevi che nessuna piattaforma nessun exchange ha una commissione allo 0% perché sennò come fa a stare in piedi? Cioè fatevi due domande. Quindi in realtà la commissione c'è ed è praticamente nel tasso di cambio qui. Ok? Quindi questo è per quanto riguarda la conversione. Ovviamente si può andare a fare anche tipo la conversione in bitcoin in euro, dollar eccetera eccetera. Insomma anche tra criptoalute vedete che poi avete il tasso di cambio qui tra l'altro avete anche la commissione per quanto riguarda scambio da cripto a cripto. Poi andiamo a vedere come funziona, quali sono le principali funzionalità della piattaforma. Quindi abbiamo visto come depositare cripto, come depositare valuta fiat, come andare a convertire le proprie criptoalute e quindi andare a fare investimenti spot. Andiamo a vedere la funzione prestiti, prima di andare a vedere la funzione trading e altre cose interessanti che offre questa piattaforma. Allora tra l'altro prima di andare a vedere ogni sezione vi si aprirà un breve tutorial. Quindi vi va a spiegare come funziona questa sezione. Ora funzione prestiti cosa significa? Significa che voi potete andare a mettere in garanzia, un po' come un banco dei pegni, potete andare a mettere in garanzia una vostra criptoaluta, un vostro asset e ottenere da quell'asset dei soldi. Tipo ad esempio io voglio andare a mettere come garanzia un bitcoin e otterrò 35.490 dollari. Ovviamente questo prestito deve essere ripagato se si vuole andare a riavere un bitcoin. Questo è importante. Ovviamente qui possono nascere anche delle strategie di investimento perché il valore di un bitcoin o come anche tante altre criptoalute non è fisso. Quindi non è che un bitcoin vale un bitcoin. Cioè sì, un bitcoin vale un bitcoin nella teoria ma nella pratica poi il valore in dollari, euro o quello che è va ad oscillare. Per cui se si vuole andare a prendere un prestito mettendo a garanzia un bitcoin dovete considerare che comunque il valore tende a oscillare. Poi si può andare ovviamente a scegliere il tipo di rischio di questo prestito andando a mettere un LTV, quindi un rapporto prestito valore, cioè la percentuale del valore del tuo collaterale che puoi prendere in prestito. Quindi se voi andate a prendere un valore più alto il prestito sarà più rischioso e avrete tra l'altro una possibilità che questo prestito venga chiuso più rapidamente. Perché? Perché il valore di bitcoin va ad oscillare più velocemente. Quindi nel caso in cui il prezzo di bitcoin vada giù il prestito verrà chiuso in automatico. Infatti vedete che avete un limite a 36.000 dollari. Quindi praticamente se il prezzo di bitcoin fa un meno punto 5% la posizione viene chiusa. Cioè il prestito viene chiuso in automatico perché bisogna andare a ripagare. Poi c'è una possibilità di fare il 90%, vedete che avete un meno 5% di sconto, il 70% un meno 25% di sconto e un 50%. Cioè quindi praticamente se il prezzo di bitcoin non scende sotto 20.000 dollari voi avete praticamente presi in prestito questo bitcoin. Un bitcoin a 18.000 dollari e potete farci quello che volete. Ovviamente per andare a risbloccare questo bitcoin dovete andare a pagare questo prestito. Queste ragazzi sono comunque diciamo delle funzionalità più da pro. Nel senso che secondo me è una persona che si addentra e è le prime armi sulle criptolute. Bisogna fare un po' attenzione su queste cose perché bisogna capire delle dinamiche per quanto riguarda andare a ripagare il proprio prestito. Perché in poche parole è come utilizzare la leva. Infatti la leva su Uodler si basa appunto su questo sistema qui. Quindi ovviamente tenete in considerazione tutto ciò. Però è una funzionalità molto interessante per chi cerca appunto di ottenere un prestito cripto. Qui vedete tra l'altro il costo del prestito. Qui è tutto molto trasparente e anche la durata del prestito. Si può tra l'altro andare anche a impostare un take profit sul prestito. E poi qui vedete appunto tutte le condizioni e ovviamente la funzionalità e tutti i dettagli per andare a ottenere il prestito. Successivamente andiamo a vedere come operare il leva con le criptoalute su Uodler. Qui vedete le varie coppie BTC, USDT, Ethereum, USDT eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro è diviso anche i settori e diviso anche per quanto riguarda le criptoalute la maggiore volatilità. Quindi le maggiori variazioni sul daily. Tutte le coppie disponibili. Andiamo ad esempio a vedere BTC. Si può andare a ovviamente aprire una posizione short o long. Qui ci viene fornita una grafica che è molto più semplice rispetto alle solite piattaforme di trading. Ma proprio perché Uodler a differenza delle classiche piattaforme di trading con le quali si va a operare su derivati e futures. Ha un concetto di leva che è diverso. Infatti se andiamo praticamente, vabbè qui tutte le informazioni basi. Se andiamo ad aprire una posizione long potete vedere che andiamo a inserire 1000 dollari di posizione su Bitcoin. Vedete che voi praticamente andate a utilizzare una leva moltiplicatore che è basato su prestiti. Vedete che voi per praticamente utilizzare una leva per 50 fate 101 prestiti. Mettendo come collaterale della quantità di BTC. Vedete che poi ovviamente per 2 ci sono 5 prestiti, per 10 ci sono 21 prestiti, eccetera, eccetera, eccetera. Si può andare a inserire le impostazioni di ordine. Quindi per quanto riguarda voglio andare a attivare l'ordine quando il prezzo aggiunge. Quindi praticamente un limit order con anche la distanza, eccetera, eccetera. Qui avete tutti i dettagli per quanto riguarda come funziona la leva e vedete che appunto c'è tutta una serie di prestiti per andare a ottenere questa leva. Proprio perché si basa su questo concetto, la leva. Quindi è diversa rispetto a tutti gli altri concetti di leva finanziaria. Per cui anche qui mi raccomando informatevi e studiate bene come funziona la leva prima di ovviamente andare a operare. Ok? Perché ragazzi comunque la leva va ad amplificare i rischi. Quindi mi raccomando attenzione. Però vedete che qui c'è una catena di prestiti automatizzata per andare a utilizzare una leva. Ovviamente ci sono, vi ricordo, delle commissioni per quanto riguarda tutti questi prestiti. Come anche andare a utilizzare la leva perché alla fine voi andate ad utilizzare soldi che non sono vostri per poter ampliare i vostri profitti e anche ovviamente le vostre perdite. Successivamente avete la possibilità di fare il cloud miner che non è altro poi che delle ricompense che vengono offerte a chi utilizza la piattaforma in modo attivo. Infatti in base al vostro livello che avete sulla piattaforma, livello che si basa ad esempio su quanti soldi avete depositato sull'account e su quanto effettivamente voi andate a scambiare mensilmente di trading. Vedete che se voglio andare a ottenere ad esempio un pacchetto degli vantaggi silver io devo fare un volume mensile di trading richiesto di 50.000 dollari e ovviamente la possibilità di fare mining. Qui mining è fatto tra virgolette perché voi non andate a fare effettivamente mining. Quindi guardate questo mining come delle ricompense che potete ottenere, diciamo dei rimborsi, secondo me è giusto chiamarlo così, dei rimborsi per quanto riguarda le fee che voi andate a spendere sulla piattaforma in base appunto a quanto utilizzate la piattaforma e a quanto depositate sulla piattaforma eccetera eccetera. Quindi guardate un po' come una ricompensa per quanto siete attivi sulla piattaforma. Poi c'è il turbo charge che è una funzionalità avanzata quindi non è molto facile da capire per cui cercherò di semplificarla. Praticamente con i turbo charge voi potete andare ad acquistare criptovalute con fondi presi in prestito. Cioè andate a creare una catena di prestiti come abbiamo visto tra l'altro con la funzione multi oltre per quanto riguarda l'acquisto di criptovalute con leva quindi praticamente il trading. E in questo modo si può usare le proprie criptovalute come collaterale per ottenere altre criptovalute e insomma andare ad amplificare i potenziali gain. Ovviamente anche andare ad amplificare le potenziali perdite. Quindi semplicemente qua si va a mettere come collaterale un asset, si va a richiedere un prestito che può essere qui in questo caso di valuta fiat. E vedete che si va a creare, adesso andiamo a mettere 10 BTC, vedete che si va a creare una catena di prestiti con il TVL che è sempre molto importante da tenere in considerazione e tutte le varie informazioni. Ragazzi questa è una funzionalità avanzata ok? Quindi bisogna capirla prima di utilizzarla ma può dare delle soddisfazioni, può dare dei vantaggi ovviamente se sapete utilizzarla. Poi andiamo a vedere un'altra funzionalità principale di Youodra, cioè quella di poter andare a mettere a rendita le proprie criptovalute sulla piattaforma. La rendita di criptovalute, quindi la percentuale di guadagno è in base al vostro livello. Livello che come abbiamo visto prima dipende da quanto voi andate a depositare sulla piattaforma e quanto andate a scambiare. Qui avete tutte le varie percentuali, quindi avete praticamente 7% o 6% su USDT, 6% su USDC se siete praticamente a livello base. Quindi avete praticamente depositato sulla piattaforma più di 100 dollari. Qui potete andare a fare praticamente fino al 7% di APR fino a 2 asset con 1000 dollari massimo di rendimento. Poi avete se andate a utilizzare la piattaforma e fate praticamente del volume di trading maggiore e quello che è, vedete che avete dei tassi di interesse più alti, fino al 10% fino a 3 asset, oppure fino all'11% di APR, fino al 12% di APR eccetera eccetera eccetera. Sono tassi molto molto alti, vi ricordo come al solito che il tasso, cioè mettere a rendita le proprie criptolute non è a rischio zero, cioè il rischio è praticamente collegato al tasso che voi ricevete. Quindi se voi ricevete un determinato tasso è perché c'è un rischio collegato. Ok questo è importante, quindi non è ovviamente a rischio zero, anche questo è un investimento perché si mette a rischio il proprio capitale. Infine l'autosicurezza e affidabilità della piattaforma, Uodler ha sede sia in Svizzera e sia anche in Italia, vedete che c'è la Uodler Italia SRL con registrazione all'UOM e anche la registrazione in Svizzera con Uodler SA, con l'intermediario finanziario regolato. Ok qui vedete tutte le informazioni. Ovviamente ragazzi per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza della piattaforma, devo dire che Uodler nonostante comunque offra dei rendimenti più alti della media per quanto riguarda la possibilità di andare a mettere le proprie criptolute a rendita sulla piattaforma, è ancora presente da diversi anni sul mercato a differenza di molte altre che come abbiamo visto nel precedente bear market sono crollate, quindi questo comunque è un sinonimo di forza che c'è stato sulla piattaforma. Ovviamente questo non è un sinonimo di garanzia perché lo sapete meglio di me che niente sul settore cripto è sicuro, quindi qualsiasi piattaforma cripto nonostante sia da diversi anni presente sul settore, nonostante sia affidabile sicuro al 100% non è vero perché comunque voi quando andate a depositare le vostre criptoalute su un exchange, su una piattaforma, quelle cripto non sono di vostra proprietà perché non avete le vostre chiavi private, quindi questo ovviamente è importante sempre da tenere in considerazione. Tra l'altro Uodler è anche partner ufficiale del Torino, quindi se siete fan del Torino magari questo vi può far piacere. Quindi cosa ne penso di Uodler? È una piattaforma interessante da utilizzare oppure no? La risposta come al solito è dipende dalle vostre esigenze. È una piattaforma molto user friendly, quindi molto facile da utilizzare ma nonostante questo ha delle funzionalità molto avanzate come per esempio il turbo charge o come per esempio il trading in levo utilizzando tutta quella catena di prestiti che abbiamo visto prima o anche la possibilità di mettere a rendita le proprie criptoalute o di richiedere prestiti. Quindi è una piattaforma molto facile da utilizzare con funzionalità avanzate. Se è interessante o meno da utilizzare dipende dalle vostre esigenze, nel senso che se voi volete magari semplicemente andare a fare degli investimenti spot magari questa piattaforma non fa proprio a caso vostro perché è una piattaforma che si basa più sulla possibilità di mettere a rendita le proprie criptoalute di richiedere prestiti, quindi di operare attivamente con le proprie criptoalute. Per cui se volete andare semplicemente a fare un investimento spot, magari potete andare a utilizzare questo exchange, questa piattaforma per comprare criptoalute e poi andare a mettere, prelevarle su un altro wallet, però diciamo che non è pensata proprio per questo. Questa piattaforma è pensata per andare a mettere a rendita le proprie cripto, per richiedere prestiti o per utilizzare la funzionalità di trading con leva utilizzando una catena di prestiti. Quindi non andando a utilizzare dei futures, ma andando a utilizzare una catena di prestiti mettendo a margine, insomma cose così. Per cui ha senso secondo me se si va a utilizzare quel tipo di funzionalità, come per esempio il prestiti è molto interessante, la funzionalità multi hold, la funzionalità turbo charge o la funzionalità semplicemente di mettere a rendita le proprie criptoalute, ovviamente bisogna tenere in considerazione due cose. Innanzitutto le commissioni, che come abbiamo visto comunque non sono bassissime, diciamo che sono normali, si va a pagare ovviamente un servizio, però ovviamente non sono basse, cioè non è che sono a zero. Per cui ovviamente bisogna tenere in considerazione quello e successivamente anche ovviamente i rischi. Cioè vale la pena ad esempio mettere a rischio il proprio capitale per ottenere un 7% di rendimento? Io personalmente ve lo dico con tutta trasparenza, non metto a rendita le criptoalute su nessun tipo di piattaforma, perché non è una cosa che secondo me, secondo il mio grado di rischio, secondo le mie posizioni e i miei obiettivi, è una cosa che secondo me può interessare, però dipende, ripeto, dalle esigenze. Interessante, ripeto, la funzione di prestiti per andare a richiedere in prestito le proprie criptoalute, ovviamente bisogna tenere sott'occhio tutta la questione del collaterale per andare a ripagare il prestito e quello che è. E abbiamo visto anche le altre funzionalità. Ovviamente dipende anche tutto dai ragionamenti, cioè quanto voglio andare a utilizzare la piattaforma, quanto voglio andare a depositare, perché molti vantaggi si hanno con livelli più alti, quindi se voi andate a utilizzare di più la piattaforma, a depositare di più, avete maggiori vantaggi. Per cui, per questo momento è tutto, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link per registrarsi agli Wodler e noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!